In manetta i presunti responsabili dell'omicidio di Carmine Avato, il muratore 52enne ucciso a colpi di pistola nella notte tra il 14 e il 15 novembre scorso nei pressi della sua abitazione di San Cosmo Albanese. I carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Castrovillari, hanno stretto il cerchio attorno al trentenne rumeno Christian Dulan, beccato domenica mattina mentre tentava di disfarsi di una pistola calibro 7,65, compatibile con quella utilizzata per il delitto. In stato di fermo anche il cognato della vittima, il trentunenne Salvatore Buffone, ritenuto il mandante dell'omicidio maturato in ambito familiare. Un'indagine minuziosa e capillare quella che ha consentito agli inquirenti di fare luce sull'accaduto, i cui dettagli sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa presso la Compagnia dei Carabinieri di Corigliano, dal Capitano Francesco Barone e dal Procuratore Capo di Castrovillari Eugenio Facciolla. L'indagine capillare perché sin dalle prime ore del fatto di sangue abbiamo cercato di raccogliere tutti gli elementi possibili per individuare intanto il movente e quelle che erano le intuizioni del primo momento, i primi sospetti, poi via via hanno preso corpo nel corso delle attività svolte. Con una serie di altri elementi che evidentemente poi hanno determinato oggi l'ufficio a disporre la perquisizione nei confronti di uno dei due, con esito positivo perché abbiamo rinvenuto l'arma del delitto, abbiamo rinvenuto munizionamento compatibile con quello del delitto e abbiamo avuto dichiarazioni significative che confermano il quadro indiziario ricostruito in questo mese. Da quello che emerge finora è un delitto maturato comunque in ambito familiare, quindi un movente da ricondurre ad una separazione in corso, quindi comunque qualcosa di prettamente familiare. Certamente, contrasti molto forti, contrasti ormai divenuti insanabili, il 17 di novembre il delitto è stato una notte tra il 14 e il 15, il 17 di novembre c'era un'udienza in corso avanti al tribunale di Castrovillari proprio per regolamentare rapporti molto molto conflittuali tra gli ex coniugi. L'ambiente sociale di San Cosmo Albanese non è permeabile all'esterno, soprattutto questi omicidi che nascono in un ambito familiare sono molto difficili da inquadrare, sia come movente sia come modalità. Siamo riusciti a inquadrare le condotte e quindi a divenire stamattina la parziale, quantomeno, ricostruzione del quadro indiziario che si sta consolidando sempre più in maniera probatoria all'interno del procedimento penale. Grazie all'analisi dei tabulati telefonici in nostro possesso e ai collegamenti che il buffone Salvatore, cognato della vittima perché è fratello della moglie, aveva con Durand Cristian che era un soggetto rumeno, quindi estraneo all'ambito familiare e solamente nel periodo antecedente all'evento omicidiario. E sono successivamente qualche breve contatto. Stamattina nell'effettore della perquisizione il Durand Cristian stava colto nell'atto di gettare, di disfarsi della pistola e dei colpi che aveva con sé. Sono stati quindi repertati sotto possesso questo la pistola di marca estera dell'est, tendenzialmente dovrebbe essere cecoslovacca, di calibro 7,65 con ulteriori 22 colpi. Di questi 22 colpi 9 erano nel caricatore e di questi 9 ovviamente uno era già incamerato nella camera di cartuccia dell'arma, il caricatore era armato, quindi l'arma aveva sperato da poco o comunque era stata utilizzata nel breve tempo precedente. Braccato ormai ha ammesso spontaneamente delle dichiarazioni e ha chiamato in corretà il buffone Salvatore come mandante dell'evento omicidiario. E in questo momento sono qui da noi, insomma saranno poi sottoposti a fermo di iniziato di diritto da parte della Procura della Repubblica, mentre ovviamente il Durand Cristian è già stato arrestato da noi questa mattina per il possesso dell'arma clandestina. Durante l'attività di indagine lei ha parlato anche di ambienti molto chiusi, in cui è stato anche difficile reperire informazioni e anche un po' infrangere quel silenzio un po' tipico delle comunità più piccole. Sì, ma guardi, io non limiterei alle comunità più piccole perché in realtà siamo in Calabria e purtroppo a me non è mai capitato di trovare persone in attesa di parlare o di dare indicazioni su quello che hanno visto, quali fossero i retroscena di un delitto. C'è un problema differente che evidentemente è quello di un contesto permeato da tanti fenomeni criminali in questi anni e evidentemente questo poi in generale ha creato quello che è un clima diffuso di omertà a tutti i livelli. Difficoltà aumentata certamente dal fatto che poi sono soggetti questi che non avevano frequentazioni all'esterno, cioè non c'erano rapporti della vittima verso l'esterno del centro dove si è verificato il fatto. Però questo per altri versi è stato un vantaggio perché evidentemente è stato più facile escludere da subito piste alternative e concentrarci su quella che era l'unica pista plausibile. Vi sono altre posizioni al vaglio? Certamente sì.